Oggi si è dibattuto sulla questione insieme alle altre forze dell'ordine, la polizia di stato, i carabinieri. Si è visto che in definitiva educare i figli significa inserire delle cellule di buon comportamento, di buon comportamento alla guida all'interno di quelle famiglie che non hanno quella sensibilità perché vediamo genitori che portano i bambini sullo scooter senza casco. Ecco, noi lì vogliamo arrivare, cioè i figli sono delle cellule positive all'interno di alcune famiglie, non tutte viva Dio.